Il polo tecnico Franchetti-Salviani è entrato nel mondo della piattaforma TRIS fin dagli inizi attraverso la partecipazione di docenti e ragazzi al summer camp che si è tenuto nel luglio 2018. Il percorso iniziato durante l'anno scolastico con le classi del Vienio si è mostrato sicuramente interessante. Entrare in contatto con nuove realtà digitali e diversificare le esperienze porta ad una sicura crescita sia personale che ovviamente didattica. Vai passando le difficoltà iniziali tipiche appunto della sperimentazione e anche la presenza di molteplici piattaforme di condivisione con cui i ragazzi erano già entrati in contatto. La peculiarità di TRIS è ovviamente quella di poter conseguire attraverso il suo utilizzo da parte dei ragazzi una certificazione delle competenze digitali spendibili al di là anche dell'ambito scolastico. Gli studenti hanno affrontato in maniera interattiva e coinvolgente argomenti solitamente proposti e trattati attraverso lezioni frontali. Gli scenari presenti all'interno della piattaforma, al di là delle competenze digitali, si sono dimostrati adeguati anche all'acquisizione delle competenze tipiche delle discipline coinvolte. Punto focale ovviamente rimane la possibilità da parte del docente di interagire con i ragazzi fornendo un feedback in tempo reale sia dei contenuti che della valutazione stessa. Sicuramente forti dell'esperienza vista dove ne verrà data la possibilità continueremo nell'utilizzo della piattaforma anche in questo anno scolastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.